Il venerdì un evento, ogni venerdì un evento. Forse mai come ieri, lo slogan che accompagna le serate musicali organizzate dal gruppo Miras nel ristorante La Pergola è stato tanto azzeccato. I soliti gnoti group hanno fatto registrare il tutto eserito nelle sale del noto ristorante algherese. Fara, Chessa, Macciotta, Zicconi, Pitali, Scollu e Piliu, accompagnati dalla tromba della guest star Giuseppe Manca, hanno spaziato nel panorama internazionale per toccare l'apice con un miserere da brividi, in origine della copiata Zucchero Bocelli e riportato sul palco da fare Zicconi. Di grande livello l'interpretazione di Live Keeps Alive, eseguito dalla sua rentevoce di Federica Chessa. Chi ieri era alla Pergola ha certamente passato una serata da ricordare tra ottima musica, compagnia allegra e buona cucina.